Finalmente eccoci di nuovo in questa nostra bella, bellissima riviera Ligure. Quanti ricordi Paolo? Mi sembra ieri che venimo qui sposini freschi freschi. Che spettacolo della natura. Oh guarda, i gabbiani, ricordi Paolo? I gabbiani? Certo. E che cosa ti ricordano Paolo? I gabbiani? Cosa ne ricordano? Ah sì, quella barzelletta. Ma cosa c'entra la barzelletta? Ah senti, una donna va col marito dal dottore. Scusi dottore, mio marito si crede un gabbiano? E da quanto tempo soffre di questo disturbo? Da un anno circa e come mai avete aspettato tanto tempo? Sa, siamo poveri e un marito gabbiano che ti porta ogni giorno il pesce fresco fa comodo. Ma io parlavo di gabbiani veri. Ma Paolo, non ti ricordi i momenti più suggestivi del nostro viaggio di notte? Ma vi avvicina, non fare così. Beh vediamo un po', ti ricordi? L'anfora di ceramica? Certo, te ne regalai una bella, grande, tutta decorata. E poi? Come poi? E poi niente. Ah, lo chiami niente? Girai tutto il giorno con l'anfora sotto il braccio, finché incontro un tizio che mi dice Ma cos'ha, si è fatta male? Ma che male, non vedi che porta un'anfora? L'anfora non c'era più, me l'avevano rubata. Meno male che ricordi, eh? Ma vi avvicina, non fare così! Adesso ti faccio vedere io se mi ricordo della nostra luna di miele, guardavi, c'è la nostra trattoria. Te la ricordi, eh? Benissimo, ma tu ti ricordi cosa mangiammo? Aspetta un po', una specialità ligure, come si chiamava? Torta pasqualina, una sfoglia di farina in tanti strati sottilissimi, ripiena di carciofi, pietole, uova, guagliata di latte. Ah, ricordi anche la guagliata di latte? Sì signora, il signor Paolo ricorda perfettamente. Grazie, hai sentito vice, impatto di gastronomia, sono come... Come? Come contorno vorrei un'insalata condita con Dante, quello della riviera Ligure, olio extravergine di oliva. E la mia frittura con olio di semi di arachide, olio. Come? In mezzo ai magneti sui veti della riviera Ligure, ho ragione? Scusi, sa, ma avete ragione tutte e due. Dante, olio extravergine di oliva della riviera Ligure, il segreto di una buona insalata. E per tutti gli usi di cucina, olio di semi di arachide, olio. E quando volete un gusto più delicato, per esempio su un cuore di lattuga, olio di oliva Dante.